Ok ci dovremmo essere amiche ed amici appassionati di grande palacanestro italiana Buonasera e benvenuti su Miro Sport Channel ragazzi Big match della tredicesima giornata del massimo Campionato di basket di serie A Uno maschile E il derby d'Italia E la Juventus Inter della palacanestro italiana E Milo Stodosic contro Sergio Rodrigues E Gigi Datome contro il ritorno di Marco Berinelli in Italia E questo il Belidei E questo Bologna-Milano Partita numero 176 fra queste due grandi franchigie La Sega Fredo di Zanetti contro l'Armani Di appunto Giorgio Armani E' stata una partita appunto appunto Una partita che è stata giocata veramente con grande lotta fisica Una partita come si dice in gergo maschia Una partita che ha visto alcuni allunghi di entrambe le franchigie Nel primo quarto per contraria di Milano Nel secondo quarto per quanto riguarda Bologna Ma che non hanno mai sortito Cioè nel terzo quarto per quanto riguarda Bologna Che non hanno mai sortito Una vera e propria tentativa di killing della partita Nessuna delle due squadre è riuscita a battere Diciamo a sfiancare l'altra franchigia Si è arrivata infatti all'ultimo quarto Sul punteggio di parità Ovviamente quindi Era come se il quarto periodo fosse una partita a sé Che è stata vinta da Milano Sul punteggio di 15 a 10 Milano l'ha vinta perché questa partita A mio avviso L'ha vinta per la profondità del suo roster Per il fatto che ci sono alcuni giocatori Vedi Kevin Panther L'ex della partita Che ha iniziato la propria esperienza in Italia Proprio alla Virtus Bologna Tanti anni fa Che ha messo la tripla decisiva Dopo che Durante tutto il corso della partita Non si era praticamente visto Infatti Io ora qua scorro i tabellini Leggo Panther ok Ha fatto 18 punti Ma non si era Visto così tanto Tanto da Dire ok Sono io quello che deciderà la partita Le giocate del Ciaso Rodriguez Che comunque Ha fatto i suoi 10 punticini E 13 di valutazione per lui C'è da dire che comunque ci sono stati altri giocatori di Milano Che hanno Meritato Di più Perché per esempio Shields ha fatto 20 di valutazione Perché Ha fatto 16 punti Comunque una buona prestazione Per il giocatore Ex Aquila Trento Ed è proprio questo Che ha fatto Che ha dato A Milano la vittoria Milano vi ricordo Che è una squadra Che può Tenere tanti giocatori In tribuna Addirittura Perché comunque Avendo un roster Veramente infinito Non può portare tutti in panchina L'ha vinta Secondo me L'esperienza La capacità Di molti giocatori Di saper vincere Non che non gli abbia la Virtus Bologna Perché c'era anche Teodosic Che ancora una volta Dobbiamo dire Si è dimostrato Molto ma molto Leader Sia leader della partita Perché comunque è stato leader Di questa Virtus Bologna Però Io ho visto un Teodosic Ancora troppo Nervoso con gli arbitri C'è stato Un momento in cui Gli è stato fischiato Un fallo tecnico Proprio per aver Diciamo Accentuato una caduta Su un contatto Con un suo avversario Male Pipporicci Secondo me Da Pipporicci Mi aspettavo molto di più Un giocatore che io Adoro cessiticamente Mi aspettavo di più Da lui Benino La coppia Gamble Che è migliorata Sicuramente Nei tiri liberi E Hunter Per quanto riguarda Beninelli 9 punti per lui Soltanto 3 di valutazione Un esordio ad oro dolce Per lui Che doveva Che non ha sicuramente Tanti punti delle gambe Infatti lo dicevano Quel di Ray Sport Dicevano appunto Che il Fuoriclasse Ex Che il fuoriclasse Ex NBA In particolar modo Ex San Antonio Spurs Non è ancora Al top della condizione Fisica per lui Poi Peraltro Cosa c'è da dire La partita L'ho riassunta più o meno È stata una partita Davvero molto bella Con Soprattutto nell'ultimo quarto Veramente Partita molto spezzettata Proprio perché appunto Le due squadre Non permettono in alcun modo Ai rispettivi Lunghi Di poter arrivare facilmente Ai centri avversari Poi una nota Di demerito Per quanto riguarda La Rai Che ha trasmesso La partita Oltre che ovviamente Era sullo sport player Però l'ho vista Sulla Rai Però Se tu Sai già Che Mi devi Fermare la partita Nelle fasi finali Per trasportarla Su un altro canale A sto punto Falla su Rai Sport O falla su Rai 3 Non farla su Rai 2 Se sai che la dovrai Trasportare Su un altro canale Metti se ci fosse stato Overtime Praticamente non avrebbe avuto senso Quei tre quarti di partita Fatti vedere sulla Rai Veramente Qua Euro Bulbarelli Mi ha deluso davvero tantissimo Quindi ragazzi Vi saluto E vi ringrazio Stasera Aspetteremo La risposta Da parte di Brindisi Che ha una partita Non semplice In casa di Cremona Contro Dotto Nons E compagni Quindi Questa partita È vero Vale solo due punti Ma in realtà Non vale due punti Perché È un segnale forte Per il campionato Perché è vero Non si vince in niente I regular season Quello che contano Sono i playoff Ma questa partita Dopo la Supercoppa italiana Vinta dall'Olimpia Milano Vuol dire già tanto Io con questo Vi saluto Vi ringrazio E noi ci vediamo A un prossimo video Ciao ciao